Salve a tutti e bentrovati. Oggi vi consiglio un libro prestatomi da due carissimi amici, Alessandro e Claudia, che ringrazio perché mi hanno dato l'opportunità di riflettere su cos'è la democrazia, cosa sia, e contro la democrazia quando io la penso a favore dell'omnicrazia, concetto coniato da Aldo Capitini, che non finirò mai di dire essere uomo poco conosciuto, fondatore del non violenza e del movimento non violento calato in occidente e non in India, a cui il merito si deve a Gandhi, e che ha portato avanti in modo pragmatico, altrettanto pragmatico, pratico, come fa Brennan, le sue intime convinzioni, con l'intento di realizzare proprio un piano politico-sociale in cui il potere potesse essere di tutti, oltre che per tutti, dove la democrazia gli stava stretta come concetto e quindi ha coniato il termine omnicrazia perché la democrazia la considerava già un concetto estremamente elitario. Di Capitini vi ho già parlato, ma questo è un po' quello che ho abbracciato di più, che sento più vicino al mio modo di pensare, di essere. Ciò non toglie che l'impostazione filosofica e la curiosità comunque di sondare punti di vista, modi di pensare altri, riflessioni che non per forza ci devono trovare d'accordo, ma che possono essere molto utili per cercare di capire e di riflettere. Anche perché il titolo qui qualcuno può dire è provocatorio, ma non è soltanto provocatorio, è preparatorio di una ferrea e pragmatica posizione che critica la democrazia, soprattutto riferendosi agli Stati Uniti e alla tradizione democratica molto forte, molto importante americana. Ma critica poi la democrazia in toto, quella deliberativa come quella rappresentativa. E bellungi da essere una requisitoria a colpi di martello come la filosofia niciana si presta e ci insegna. Non demonizza soltanto, ma cerca di proporre poi una forma di governo alternativa. anche se già vi devo dire, almeno a mio parere, per me la Pars Destruens è molto maggiore rispetto alla Pars Costruens. Fino alla fine mi sono chiesta, ma mi spieghi caro Brennan che cosa intendi per epistocrazia? Governo di competenti, di sapienti, così come teorizzava anche lo stesso Platone nel De Repubblica. Ma coloro che conoscono, secondo lui, sono coloro che comunque devono votare e essere votati. Quindi competenza. È richiesta quella. Perché lui parte proprio a criticare la democrazia dal fatto che queste democrazia sono di persone ignoranti. Attenzione, gli ignoranti, noi ignoranti, quindi poco competenti, dovremmo riuscire a formarci, a diventare sempre più competenti in materia di educazione civica almeno per votare avendo cognizione di causa. E di questo dobbiamo comunque prendere atto. Anche se poi, se dobbiamo restringere il voto solo a coloro che sono effettivamente competenti e anche nella rosa di coloro che poi andremo a votare e ci sono persone che devono essere altamente formate, preparate, tutto questo è meritevole ma rimane elitario. Rimane una rosa molto ristretta di persone. A meno che, appunto, in questa visione illuminata non si arrivi sempre più poi a estendere, ma lui qui non ne parla. Quindi come poi mettere in atto questa epistocrazia e proprio nei modi veri e propri non ne entra troppo nel merito. Ci dà qualche strumento o qualche elemento di riflessione. Mentre la parte critica è molto molto approfondita, minuziosa, pignola. C'è una vera e propria disamina punto per punto di ciò che intende per ignoranza e quindi comunque è un modo molto critico in cui possiamo noi stessi farci autocritica. Senza polemica, io mi chiedo però questa benedetta epistocrazia. Vuole essere una sorta di oligarchia colta oppure una forma saggia che non si contrappone alla democrazia ma anzi va a migliorarla riparando quelle storture pur va guardando il concetto di libertà? Diciamo che nel concetto moderno di democrazia confluiscono due accezioni. Quella procedurale, lui la mette in luce, del rispetto delle regole in gioco e quella sostanziale di garanzia dei diritti di libertà e di uguaglianza. Per Bobbio non esistono alternative praticabili e migliori rispetto alla democrazia rappresentativa. Per Brenner evidentemente invece sì. Ora chi vota a suffragio universale è incompetente e lo dice un po' in tutte le salse, lo ripete un po' in tutti i modi e ancora in tutte le salse è incompetente, è ignorante e me ne freghiamo. perché non è tanto stupido, non è una questione di stupidità, ecco, ma l'ignoranza è che alla fine chi vota mediamente si dice ma che senso ha può informarmi? Non è tanto importante, prende sotto gamba il fatto di conoscere bene la Costituzione italiana, almeno di sapere chi c'era stato prima nel governo precedente a ricoprire determinate cariche e quindi non solo non conosce chi c'era prima, come hanno lavorato prima, ma legge frettolosamente i programmi senza avere una base minima, quella elementare di educazione civica. Quindi ci si augura che invece appunto questo avvenga. Per Brennan poi chi va al potere, e questo a ognuno dà il suo avere, è diciamo opportunista e corrotto, quindi vuole mantenere quella che viene detta una democrazia di facciata, manteniamo, sventoliamo la bandiera democratica, ma in realtà mandiamo avanti un sistema in cui le persone non si informano, così io che sono al potere posso fare il bello e il cattivo tempo, quello che mi pare, e fare i miei manini. Descrive la società odierna in particolare dividendola in tre categorie e qui è abbastanza curioso anche la terminologia che viene utilizzata. Gli Hobbit, gli Huligans e i Vulcaniani. Gli Hobbit sono, diciamo, gli apatici e non me ne vogliano gli Hobbit perché sono personaggi meravigliosi di Tolkien, dal cuore puro, ma qui il termine Hobbit si intende coloro che non gli interessa la politica, non si informano e quindi di conseguenza sono ignoranti, apatici. Poi ci sono gli Huligans che al contrario sono informatissimi, sono l'esatto opposto. Sono informatissimi però, uno dice benissimo, allora saranno competenti? No, fanno anche quasi peggio, perché, secondo Brennan, loro si informano ma in modo fazioso. Huligans, quindi sono dei tifosi della loro squadra, della loro parte, anche le cose a cui si interessano, comunque partecipano, sono sempre di parte e quindi vanno a fare dei gran danni. E infine ci sono i Vulcaniani. Sono personcine, razionali, logiche, ben informate, ma sono una minoranza e secondo lui è molto difficile, come invece alcuni filosofi sperano, che l'Hulbit diventi un vulcaniano o che l'Huligans diventi un vulcaniano. Secondo lui è quasi impossibile, molto più probabile è che l'Hulbit diventi un Huligans, questo sì, ma i vulcaniani non vanno al potere e rimangono una minoranza. E quindi che dire, che questo drammatico destino in cui le nostre società sono in balia di queste figure archetipiche, concettuali, come lui le definisce, e se la democrazia ha valore strumentale, invece, e questo valore, questo martello non va bene, non realizza una reale libertà, gli interessi dei cittadini non vengono tutelati, i diritti umani non sono tutelati, allora, e invece, quest'altra forma di governo, sempre per un valore strumentale, realizza in modo migliore certi obiettivi, allora perché non usarlo? E quindi sempre lui sottolinea l'importanza di trovare un martello che effettivamente migliori la società, in termini proprio strumentali, più che ideali, perché l'epistografia non si regge sulla speranza che esista un re filosofo, che come dice Aristotele, sembra essere impossibile, ma si regge su una sorta di, diciamo, lui stessa la definisce in modo pragmatico, molto americano, una patente per votare. E in più non viene dato un voto solo, ma abbiamo un voto plurimo, dato da chi? da coloro che sono passati all'esame. Stuart Mill pensava che la partecipazione politica nobilitasse i cittadini e quindi difendeva i cittadini colti la possibilità di questo voto plurimo che quindi ha questo tipo di radice, così come anche il diritto di veto sulle regole del corpo democratico. Anche questo è un altro strumento che viene dato per dirvi che non vi è solo la pars destruens, ma di costruttivo, vengono attingendo proprio anche dalla tradizione filosofica o politica, si parla di questo. E si parla un altro strumento molto importante del suffragio per sorteggio. Nessun cittadino ha automaticamente diritto di voto, ma prima delle elezioni vengono sorteggiati dei pre-elettori, attenzione, non già coloro che andranno al voto, perché così allora sarebbe veramente un principio casuale, pur parler, pur fair. Invece questi pre-elettori verranno poi presi, sorteggiati, quindi ci si allontana da ogni possibile corruzione, abuso di potere o altra forma illegittima, tutto è casuale, e loro cosa fanno? Devono però sottoporsi al test, a questa patente di cui vi parlavo prima. E solo coloro, la rosa di coloro che si guadagneranno in qualche modo il diritto di voto, solo se avranno superato il test sulle competenze politiche di base. Poi, su cosa si intenda, cosa intenda Brenner per competenze politiche di base, ecco, ci illustra in modo veramente diffuso, particolareggiato e preciso, puntuale, l'ignoranza degli elettori, di cui secondo lui si potrebbero scrivere libri interi, e la Costituzione americana, lui si rifà agli americani, gli americani la amano tantissimo, ma non sanno che cosa dice il contenuto, non lo conoscono e quindi qui ognuno di noi si interroghi da un punto di vista proprio calandola a una realtà italiana. Noi amiamo la Costituzione, ma quanto la conosciamo? E non sono stupidi, ma la loro è ignoranza, me ne freghissimo, in quanto non ritengono utile un sapere di tipo politico. E infatti, proprio per dirvi quanto puntuale è, vi faccio solo alcuni esempi, vi leggo al volo, dice che potrebbe scrivere un libro intero, quanto poco sanno gli elettori. La maggior parte degli americani non sa nemmeno approssimativamente quanto si spende per il sistema pensionistico, né a quale percentuale del budget federale corrisponde. Il 40% degli americani non sa contro chi gli Stati Uniti hanno combattuto la Seconda Guerra Mondiale. Noi lo sappiamo, l'Italia con chi ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale, noi lo sappiamo il budget pensionistico che viene erogato, qual è rispetto anche a tutta la spesa totale? Noi conosciamo questi aspetti che, secondo Brennan, sono basilari se si vuole avere diritto di voto e una reale competenza su temi di politica. E questo è solo un piccolo assaggio. E poi prosegue. L'argomento dell'istruzione, che sta veramente molto a cuore a tutti, tanto da tirare in ballo, Stuart Mill, che riteneva il cittadino medio un hobbit e così come nel testo Democrazia e America anche Tocqueville, anche lui, Pola pensava nella stessa maniera. E seppur chi vota, lui dice, è generalmente più preparato, informato, in media, di chi sceglie di non farlo, che quello proprio, lui non prende in considerazione che chi non vota magari lo fa per protesta, ma è anche più consapevole, più preparato di altri che votano. Ma in media, lui dice, parlando in generale, che va così, sono meno preparati quelli che comunque non votano. Ma comunque anche questo non è sufficiente. I sostenitori della democrazia deliberativa nutrono fiducia per il solo fatto che le persone si riuniscano, discutano, prendano decisioni e quindi che siano per questo più preparate. Ma invece, come lui non manca di dire a proposito degli hooligans, sono faziosi, sono ancorati nei propri pregiudizi. Quanto noi stessi non ricerchiamo sempre in quello che andiamo a leggere, a vedere, coloro che la pensano come noi, coloro che sono d'accordo con le nostre tesi. Cerchiamo il consenso, cerchiamo l'appoggio ai nostri giudizi o pregiudizi, non si sa. E quindi per questo ragione di più che contro la democrazia ci può in qualche modo stimolare in senso contrario. E nelle democrazie hanno valore e peso le decisioni prese da grandi gruppi. Quindi anche questo lui lo vuole mettere in luce, non dai singoli individui. Quindi la caratteristica molto spesso di chi difende la democrazia è dire, beh, io difendo il sistema democratico perché fa i miei interessi. Se io non partecipo democraticamente non posso poi lamentarmi e se non vengono portati avanti i miei interessi. Ma secondo lui non è automatico che in una democrazia vengano portati avanti gli interessi del singolo. Perché comunque quello che viene a essere approvato sono le decisioni di grandi gruppi, non mia o tua. Per Brennan le libertà politiche non tutelano il cittadino così come invece lui è convinto. Né perché lo Stato faccia i suoi interessi, come ho appena detto, né per evitare che gli altri cittadini gli nuocciano. Perché anche questo uno dice, beh, io preferisco la democrazia perché la democrazia mi difende, mi tutela. Mentre per lui la tutela è legata al portare avanti non tanto un diritto di voto a suffraggio universale, quanto dei valori morali, politici, anche se votano solo coloro che hanno la patente o le competenze giuste. Ciò non toglie niente alla libertà se vengono poi a governare persone che portano avanti quelli che sono dei valori morali, etici e lo fanno in modo consapevole, proprio in virtù della loro preparazione, illuminazione, saggezza. E ciò che conta è un sistema che funzioni in modo strumentale e se l'epistografia funziona meglio contro l'ignoranza, la corruzione, l'irrazionalità che sono per lui i mostri da combattere, allora che la si adotti. E quindi molto importante questa ottica. E ancora si parla del suffragio per sorteggio, di cui parla, teorizza Lopez Guerra. E in base a questa procedura, nessuno in partenza quindi ha il diritto di voto. Il punto di partenza è lo stesso per tutti, si sorteggia un sottoinsieme casuale di cittadini, i soli a potersi guadagnare il diritto di votare alle elezioni, e dopodiché però si devono guadagnare questo. E attraverso che cosa? Attraverso la loro competenza, il test, l'esame, come dicevo prima. Fermo restando che questo testo non fa a che ripetere quanto si assaggia l'epistografia, ma non ne spiega, non entra proprio nel merito del funzionamento pratico, strumentale che tanto candeggia, e la pars destruens, critica, dettagliata, è scompensata rispetto a quella invece costruttiva. E fermo restando che il lettore, almeno così, è capitato a me, poi mi direte voi, spero che qualcuno mi spieghi anche meglio di quello che ho capito io, ma si instilla il dubbio nel lettore e quindi se il lettore diventa dubbioso, diventa anche curioso, desideroso di sapere come uscire da questo malgoverno, da questa democrazia che è solo di facciata, alla fine gli ideali democratici non vengono sconfessati o criticati in se stessi, ma è il modo poi in cui strumentalmente, pragmaticamente vengono realizzati. E quindi cosa fare? E' qui che però non si hanno delucidazioni, e io attendo le vostre. Se auspichiamo un sistema di governo, di persone illuminate, poche, competenti, non corrotte, ovvio che sia meglio della democrazia corrotta, di facciata, che non fa gli interessi di nessuno, che viene mantenuta proprio per consentire gli interessi di pochi, fingendo che siano di tutti. Pensate un po' il paradosso. Quindi certamente allora è meglio così. E' molto bello anche, leggete la nota in cui si parla del sistema veneziano, che veniva usato nella Repubblica di Venezia, proprio perché è un modello a cui Brennan si rifà e si ispira in qualche modo. Sempre legato al suffraggio ristretto, sempre legato a un sorteggio, che garantisce contro i rischi della corruzione in campagna elettorale o di abusi di potere. Ecco che, però, voglio ancora spendere due parole, perché mentre leggevo, io leggo più libri in una volta, mi piace così, quindi mentre leggevo questo mi sono imbattuta in quest'altro, la manomissione delle parole di Caro Figlio, che non sto a consigliarvi, perché si può benissimo non leggere, ma che mi ha, invece, mi ha incuriosito alcune parti solo, perché se io leggo di arte, di filosofia, di letteratura o di politiche, sempre mi esprimo, ovviamente, attraverso un linguaggio proprio della disciplina. E lo arricchisco, lo definisco anche, cesellandolo, attraverso, a mio gusto, a mio uso e consumo, attraverso proprio l'elaborazione di un testo, che poi è quello che io scorro e che mi serve come traccia, come guida, mentre sto facendo il video e mi rivolgo a voi, per essere più incisiva, più diretta nelle cose che dico, ma sempre di parole che siano scritte, che siano verbali, verbalizzate, si parla. Ed è la loro manomissione, ci dice Caro Figlio, soprattutto in politica, visto che lui ha competenze di tipo giuridico, ne fa una questione di democrazia. E nel romanzo 1984, il regime di Oceania, infatti, cosa fa? Altera la storia, le cose, le forme di pensiero, attraverso questa neolingua, che diminuisce le possibilità di pensiero, proprio riducendo le parole. Di contraltare, invece, lui sottolinea che la parola può tutto, da forma, da sostanza, meraviglioso questo, perché io nel linguaggio ci sguazzo, da forma e sostanza all'esperienza. La deforma, e qui abbiamo il concetto di manomissione come deformazione, alterazione, manipolazione della lingua, sì, ma lui ci dice anche che non solo la lingua viene manipolata in senso di manomessa, in questo senso, ma nel senso latino, manomissione deriva da il rendere liberi gli schiavi, quindi rende libera, rende liberi non solo danneggia, ma restituisce libertà. E quindi lui ci dice, ci esorta, facciamo a pezzi le parole, e poi le rimontiamo. Per rimanere proprio sul tema della democrazia, lui cita Gustavo Zagrebensky, che ha detto che il numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia, a cui lui crede, perché essa richiama alla discussione, al ragionamento, per poter tutti insieme dominare la realtà e governarla. E qui Brenner avrebbe da ridire, ci si illude lui dire, che è così, ma in realtà non è così. e diciamo che in questo caso è molto importante anche chiedersi quali sono le parole necessarie, proprio quelle di cui non si può fare a meno. E qui c'è una parte curiosa in cui si dice che sia Saramago sia George Steiner hanno scelto no come prima parola di un ideale lessico necessario. Una delle parole più semplici e corte del vocabolario, osserva il primo. La parola più urgente ed essenziale, la più selvaggia del vocabolario, secondo Emily Dickinson. Dice il secondo. E' un'arte difficile e perduta quella di dire di no. No alla brutalità della politica, no alla follia delle ingiustizie economiche che ci circondano, no all'invasione della burocrazia nella nostra vita quotidiana, no all'idea che si possano accettare come normali le guerre, la fame, la schiavitù infantile. C'è un bisogno enorme di tornare a pronunciare questa parola e invece ne siamo incapaci per acquiescenza, per scetticismo, per pura pigrizia. Ecco che allora troviamo per chi sostiene la democrazia come no, però comunque questa figura dell'hobbit nell'accessione però intesa da Brennan. Cioè come l'apatico, come colui che alla fine accetta le situazioni, l'indifferenza e il male più grande. non è mera negazione. Il no può essere valore propositivo, costruttivo, creativo. È creativo, è potenza pura anche il no dell'apparenza nichilista di Bartleby, lo scrivano, il personaggio di Melville, che a ogni richiesta dell'avvocato di Wall Street, suo datore di lavoro, risponde gradualmente, inesorabilmente, preferirei di no. Il suo no, un no alla richiesta di copiare pedissequamente, un'operazione molto noiosa, opprimente, soporifera. E quindi vedete, molto importante, questo aspetto del no come rivolta, di cui parla anche Camus nell'opera L'uomo in rivolta. Mi rivolto, dunque sono. Il cogito cartesiano diventa, non è un pensare, ma è un dire di no, un ribellarsi alle situazioni. Viene così, trasformato. Ribellione può significare cose molto diverse. Una possibile forma di ribellione allude al narcisistico rifiuto delle regole, fare quello che si vuole. Ecco, ma non è questo. È un elogio alla partecipazione politica, all'azione politica estranea, alla sfera della violenza, quella muta, quella indifferente, ma la capacità di opporsi alle ingiustizie per veramente i diritti umani. E qui voglio concludere. Quindi, ancora una volta, vi ho lanciato degli stimoli che spero voi raccogliate al volo e possiate leggere non solo perché il pensiero vostro di persone che, Brennan dice provocatoriamente, tutti noi ci sentiamo sempre competenti. Nessuno pensa di se stesso di essere un incompetente. Invece, un po' di sana umiltà e anche invece di andare sempre a ricercare quindi persone che ci confermano le nostre tesi in modo fazioso e che alla fine non fanno di noi, non arricchiscono la nostra apertura, andiamo a cercare proprio quelli, andiamo a scovare proprio quelli che la pensano in modo diverso da noi, diametralmente opposto e proviamo a capire se c'è qualcosa di buono anche loro se in qualche modo c'è una parte costruens e quella la prendiamo al volo. Bene, grazie a tutti e buona visione, buona lettura. Alla prossima!